ben tornati ragazzi sul canale di joke next gen siamo qui oggi con le altre due partite della road vision one su fifa 16 ma prima volevo mostrarvi la mia formazione visto che nella l'episodio non ho fatto ragazzi è una 433 modulo 2 quindi quello pubblici cc cdc con importe a mignolet in difesa per ora ho cabullo ogbon terzino senso clichy e terzino a destra sagnat poi a centrocampo c'ho cdc feleni poi c'ho zilif che sarebbe nata un coc l'ho adattato a cc poi cambia magari vuolo e ramsey se non ricordo male si e poi c'ho ad ibarbo atti huelbeck e as young questa ragazzi la panchina vedete non ho ancora tutti i giocatori giusti teo ropes insomma ma e con marcelo barclay martial palcao mi dico rada merco c'è un milaner ceco uiccia di ulice e sane ok ragazzi ci rompere poco con la prima partita della road vision one ok ragazzi eccoci giunti nella prima partita della commissione 10 di oggi cercheremo di ottenere altri punti per andare in c'è un'esercizio subito tiro ma la via c'è subito maia non parola dentro no che passate merda un grande parato ai dittor 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 un miracolo di pittire no poi un pochissimo e mamma mia attenzione pesa in difficoltà un'attività attraversa da un suo versatino salgo i compagni per dargli una mano no 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 grande migliori doppio miracolo di migliori ragazzi e poi un pochissimo azienda per i bisogni del comestito messi lo riesce tutto no colpi di testa buoni libri bottini ma io e dai ma che cazzo no ragazzi no 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 vabbè ragazzi ma veramente dai non posso perdere con uno così vale sempre vai subito vai bel goter madonna uel di retta donna subito reazione però subito dai 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 ma ma dai a te l'inicio un controllo merda ma perchè si fa saggi della merda mi è arrivato messi arrivato ma qua fa un culo perché non riesci manco passare un astra cazzo palla madonna la paratutto para paratutto para chi c'è gesù cristo c'è in porta guardate la palla incolla cioè non si riesce a togliere cioè questa resistenza 10.000 carte no vabbè ragazzi non è si può c'è quando la partita si è scrittata va così sì ma dove cazzo vai minore ma dove cazzo vai vuole solo sapere no vabbè ragazzi non riesco più a giocare non riesco più a giocare vincine non riesco più a giocare no vabbè niente ragazzi ora ragazzi sono novantesimo già scaduto vabbè ragazzi era cioè dal secondo come sono rientrati in campo al secondo tempo si era capito che doveva andare così hai finito 2-0 ragazzi a prima l'ho persa raffanculo sinceramente vabbè ragazzi ci vediamo con la seconda partita sperando che vada meglio ok ragazzi qui ci giunti alla seconda partita sperando che vada meglio della prima possibilmente ricordo che ho 4 punti e me ne servono 9 me ne basterà punti e divisione 9 quindi con questa potrebbe essere 7 punti ma che sono ste cose ma che sono ste cose attenzione marzial marzial tiro subito che l'unico miracolo del portiere ragazzi non cercate di dirvi ho tolto Welbeck e Young ho messo marziale e Parkhout ah perchè tagliano male perchè tagliano male cabullo gbonna lezione ancora miracolo zil quasi vicino a 1-0 dai dentro dai e c'è con me eh c'è il collo lina 0 eh c'è il collo lina 0 eh c'è il collo lina 0 lina 0 lina 0 attenzione tiro parola mia vicinissimo il tuo zio anzi Aaron con madonna madonna se segnava lui non so che cazzo moriva domani oh arbitro ma che cazzo no vabbè ma come fa a non essere fallo quello vabbè ragazzi non lo so veramente c'è ma che cazzo di sistema di arbitraggio a sto gioco l'avete visto c'è con un fallo segna pareggiato ma io giro no a me maledizione ragazzi quasi con il mio 1 a percuma no vabbè ragazzi vabbè ma non si può c'è noi stiamo scherzando cioè si può passare la palla di un difensore che errore che errore dai arbitro no no vabbè non ci credo mai è scandaloso l'arbitraggio ragazzi è scandaloso ragazzi è scandaloso vabbè ragazzi è scandaloso no 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 stava pure per fare con ragazzi è scandaloso Falcao è stato trattenuto è proprio un tipo a style ragazzi è proprio un tipo a style questo e guardate cioè guardate ragazzi tutto all'impallo cioè devi andare così la partita vai 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 vittor vittor vai vittor altro no ma che è la squadra di la squadra di fail è questa vai ottimo l'intervento del portiere calcio ad agolo minuti finali momento importante ma me no ma mi 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 ti ok finita la partita 1 pari fino ad oggi abbiamo fatto uno sconfitto e un pareggio non sono riuscito a vincere però ho molto da dire sull'arbitroccio non mi è piaciuto proprio va bene ragazzi comunque spero che l'episodio vi sia piaciuto se è così come sempre fatelo sapere vedrò di cercare di colpare il tipo un po' più spesso che lo scorso episodio visto che non ha avuto un grande successo quindi se qui è superano almeno i 5 like vedo di portavolo insomma un po' più spesso FIFA ok ragazzi come sempre sotto trovate i miei contatti facebook twitter, instagram trovate i miei dpsn, xboxx se volete aggiungermi ci vediamo al prossimo video qui da Angeloneo83 è tutto, bella